A volte capita che cercando una cosa se ne trovi un'altra. E' quanto successo ai militari della compagnia di Gioia Tauro, dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria e del nucleo Cinofili di Vibo Valencia, che a Rosarno, mentre stavano percusente una casa, hanno trovato nel terreno adiacente delle zolle che sembravano rimosse di recente. Così si sono messi a scavare e hanno trovato un sacchetto di plastica di colore nero e un barattolo di vetro contenente delle inflorescenze, verosibilmente di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre l'uomo, nella cui disponibilità erano sia la casa che il terreno, è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.